Quando uno fa un servizio, prega solo se lo fa nell'amore, nell'amore, non perché, per come, perché poi mi ritorna qualcosa, no, 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 fallo nell'amore, l'amore è la più grande voce della preghiera. Allora guardate che bella cosa sarebbe, perché, perché anche se sei a lavorare, lavori non perché te l'han detto, non perché ti tocca, non per farti vedere, ma per amore, nell'amore, noi siamo immersi nell'amore, perché tutto quello che vediamo e viviamo e respiriamo è Dio, l'amore, Dio è amore.